Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata della nostra serie dalla Ulisse Craft Ciao ragazzi, bentornati E oggi abbiamo un po' di problemi, perché tipo, riavviato un attimo il server dopo che sono stato fuori per le vacanze E ho un casino di problemi da risolvere ancora, quindi, eh, che bello Comunque oggi andremo avanti con l'RF Tools Quindi andiamo a craftarci un po' di roba Nel frattempo sto anche avendo problemi con la roba che tipo esce qui, non ce la fa restare Però è una cosa normale ragazzi, perché tipo, sto, tipo, sono tornato e ho la roba sempre piena Quindi dovrò farmi magari qualche drive in più, un pochetto sistemati meglio Perché per il momento mi danno un po' di problemi, vabbè, poi li sistemiamo, non è un problema Qui invece ho chiuso perché la redstone sta iniziando a scendere troppo Quindi devo farmi una farm di redstone quando avrò tempo Per il momento va bene così ragazzi, va bene che comunque la roba che c'ho qui dentro faccia il suo corso Quindi, ok, va benissimo Dicevo quindi, devo farci adesso l'inscriber Che dovrebbe essere anche abbastanza fattivo Forse non è l'inscriber Inscriber Inscriber, ok Perché ci devi scrivere sopra forse Può essere, non ho ni idea Che si crafta in questa maniera Ovviamente bisogna fare il machine frame E ne faremo tanti perché sono una delle cose più utili e più importanti di questa mod Quindi ne facciamo un paio Perfetto, facciamo quindi questo Che servirà ovviamente come vedete per costruire la tua dimensione Combinando i diversi dimlet dentro Quindi va bene Mi servono tipo questi qua, le empty tab Perché serviranno Mi sa che però non abbiamo delle paper Ok, mi serviranno anche delle paper Eccoci qua Quindi, ci abbiamo fatto un attimo uno di quello Mi servirà come stavo dicendo il tab Vabbè, ci siamo uno specifico dei fogli Quindi paper direttamente E ci craftiamo anche questa qui Che sarebbe quella standard Per poter inizierare a creare le nostre dimensioni E completiamo anche la missione Ah, me la dava lei Porca vacca Vabbè Poi ci servirà il dimension builder Che serve invece per creare proprio sta cosa E questo forse è un pochetto più difficile Ma non credo Perché dovrebbe essere abbastanza fattibile Infatti, ok Ci sono tanto cose stupide Poi abbiamo il creative L'editor Vabbè, me lo chiederà solamente di farmelo Quindi quasi quasi me lo faccio già subito Per essere sicuro Perfetto E questi vanno tutte in energia Giusto? Questo mi sa di no Però questi qui invece sì Vanno del ref E infatti Bisogna Credo utilizzare la roba Possiamo addirittura Fare l'infusion Oh mio dio Vabbè, non ti interessa come cosa Ok, quindi Clemiamo questa roba L'abbiamo fatto Ora ci serve ovviamente Il return to receiver E perché se avesse Tipo quello per ricevere Sia quello per tornare E quindi mi servono Entrami Mi da pure il charged porter Va bene E quindi faremi il nostro receiver Giustamente Perché Se no Ovviamente dove andiamo Chissà Da qualche parte Eccolo qua Ci siamo fatti uno E quindi ci siamo E lo installiamo Prendiamo giustamente Non la vita Che non ci interessa E ovviamente anche il transmitter Visto che stavo Potevo anche farlo subito Cioè avevo intuito Che sarebbe stato quello Ho sbagliato In realtà è transmitter Transmitter Vediamo un po' Eccolo qua Ok Si fanno più o meno La stessa maniera Specialmente al contrario Diciamo Ma a fine fine Sono quelli crafting Quindi fatto anche questo E ora evidentemente Mi vedrà di fare questo qua E ora mi dice Fattelo Quindi devo fare Un po' di roba Devo farmi quindi I dimension shard Eh però le shard Perché sapete che le shard E' vero Effettivamente non le ho trovate E si trovano Tipo qui Nelle dimension shard ore Forse non si trovano qui Forse faremo una dimensione Le potrò trovare Può essere Effettivamente perché Però non li ho trovati per nulla Qui abbiamo comunque Tre basic Un po' di roba Piuttosto decente Quindi possiamo iniziare a creare Già una prima dimensione Se volete Ok E il porter ovviamente Eh Possiamo utilizzarlo Ok Possiamo utilizzarlo per tornare Il receiver ovviamente Quindi Mettiamo un attimo Questa cosa qui dentro Perfetto Così recuperiamo un po' di energia Perfetto Mentre per quanto riguarda questi Devo comunque dargli energia Per forza Ne mettiamo quindi Un Mettiamo magari Uno qua Prima momento Mettiamo che ne so Un receiver Transmitter Mi serve E il receiver qua Perché ovviamente il receiver Mi servirà per un paio di cosette Però non qua Perché qua non ci arriva Facciamolo qua Perfetto E Ok L'energia arriva comunque A 100% Quindi almeno quello Siamo sicuri Ora però dobbiamo creare la roba Un attimo che però qui Col teleporter Dovrei un attimo settarlo Qui sopra Devo fare quindi così Dove sta il receiver Questo qua Quindi adesso abbiamo settato Il nostro receiver Che può arrivare qua Quindi facendo così ragazzi Possiamo tornare qui Senza problemi Quindi è una buona cosa In realtà Ci potrebbe essere utile Ora Voglio un attimo Craftarmi un po' di robe Allora dimension builder Non mi interessa Mi interessa Per fare l'inscriber Quindi facciamo giustamente Una di queste Perfetto E iniziamo ad asserire Quello che vogliamo noi Voglio fare una con la mesa normale Perché mi sembra carino Come cosa Quindi mesa Poi vediamo un po' che abbiamo Abbiamo Il giant cloud Ok E poi forse Terrain plateau Ok Dovrebbero essere decenti In realtà uno soltanto Mi servono un due Perfetto Andiamo a crearne uno Ragazzi Quindi uno Due Tre Perfetto E quindi Possiamo metterlo qui sopra Quindi adesso abbiamo creato questa cosa Ragazzi Ovviamente richiede 92.000 Per poterlo creare E anche il creation cost Comunque La roba che ci serve È un pochetto grande Quindi dobbiamo comunque fare un po' di roba L'editor per ora non ci serve Quindi lo andiamo A comunque pensare Più o no qua Per il momento Ma Non è importante Sinceramente E mi sa che questo richiede energia Quindi anche questo Devo posizionare da qualche parte Ove c'è energia Ma che lo mettiamo qua Dai Sti cavoli Se mi fa passare Possibilmente Ma Maglio qui c'è un bug Perché Se i vari suoi Sono così Vabbè Non voglio saperlo Non mi interessa Quindi andiamo a mettere uno qua ragazzi Ho sbagliato Uno qua vi dicevo E l'altro accanto Perché deve creare energia Quindi iniziamo a creare ragazzi Il nostro dimlet Che ricoprerà energia Per poter creare Quindi come vedete Questa cosa Questo progetto Della dimensione E ce l'abbiamo Quindi abbiamo una dimensione Prodotta al momento Ok ora ci siamo ragazzi Quindi dobbiamo andare Verso il 5 Come roba E devo comunque utilizzare Un po' di energia Credo che però Potrei avere un po' di problemi Di aisle Ok quindi Posso in teoria andare Giusto Non dovrei avere problemi Ok di aisle ok Quindi ragazzi Adesso sul nostro transmitter Come state vedendo Posso andare Verso la prossima dimensione Sto iniziando a teleportarmi Ci metterà un pochetto E adesso Andiamo nella nostra dimensione Che dovrebbe essere una mesa Se non sbaglio Si E' una mesa Un po' nel cielo In realtà E questa cosa è un pochetto Perché esattamente Va bene però ci sono Ok Ovviamente questo ha dell'energia Quindi dopo un po' Potrebbe essere un problema Tanto abbiamo comunque questo qua Che ci permette di tornare Quando dove vogliamo Quindi non preoccupiamoci Il vero problema adesso E' bella questa dimensione Ma come diamine Mi faccio la dimensione Che voglio io E si devo trovare più roba Ragazzi Perché qua Questa dimensione E caglina Un pochetto strana Ha un po' di roba H Cosa Cristo Ma ok Non ho idea di che cosa Diamine ho trovato E c'è qualcosa lì Che cos'è Ragazzi miei Oh 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 C'è qualcosa di strano Ah immagino sia Tipo la roba strana Delle RF2 Infatti Justamente qui dentro Posso trovare altri dimlet Infatti Come succedeva Per le altre cose Lo si è trovato Ho trovato Un charge test Uh Buono questo dimlet E abbiamo trovato Saturazione a no dimlet Va bene Qui c'è un po' di roba Tipo Vediamo un po' 1, 2, 3 Vediamo un po' Cosa possiamo trovare qui dentro Abbiamo trovato Jungle heal Chian E digit 9 Quindi vedete Possiamo recuperare un po' di roba Da questa dimensione Per poter fare altre dimensioni In futuro Quindi funziona più bene In questa maniera E è abbastanza caglina Come cosa Perché è molto Molto bella sinceramente Vediamo un attimo Per recuperare un po' di oggetti Vediamo un po' Questo ci abbiamo qui Jungle Normal Maze Uh I maize addirittura pure Qui abbiamo niente Niente Chian E Cold Color Va bene Qualcosa di un pochetto carino E bello Ci può stare alla fin fine Però devo trovare comunque altre Perché ne voglio Molte ma molto di più C'è qualcosa lì vicino Che mi preoccupa Cosa diamine Oddio aspetta È tipo un blocco intero Di che cosa Di E Eletro Esatto Eletrotina Ma no Vabbè Sei serio C'è Ok Ok Non volevo Non volevo Interia La cosa bella ragazzi Adesso possiamo buttare la roba qui dentro Tipo Possiamo buttarci altri dimlet Dentro al nostro sistema Dell'app Perché tanto funziona comunque Perché abbiamo questa cosa Che ci provate di far andare La roba anche lì Però forse Ho un pochetto esagerato Questa roba Ho un'idea per il prossimo sistema Ragazzi che voglio fare Infatti ho trovato Qui sotto Che ci sta Il volcanic desert M Non so che diamine sia In realtà Boh ci sarà scritto qualche parte Però prendiamo uno di questo Ragazzi Che mi serve Poi prendiamo Uno Standard Dove avveniamo Nove Magari Che non so bene a che serve Però in realtà va bene Poi mi serve Aste Non mi interessa Saturation Nemmeno Il tab Mi serve Che l'ho messo qui dentro Giustamente mi serve Il maze No non è importante Dovrei trovare qualcosa Di decente Vediamo un po' Malted Prine Plastic Heavy oil Oddio Rocket fuel Sarebbe anche bello Blackstained clay Dirt Beh dirt non ci interessa Fossil ore Se riuscissi a trovare Un minicior Sei serio Vabbè GG minicior Nether copper Titanio Silicio Questo abbiamo trovato Ragazzi No vabbè Guardate Un sacco di roba bella Il silicio ore Però mi sembra Bastanza decente Come cosa Vabbè Tanto non ci interessa Prima Troveremo anche Comunque altre robe dentro E prendiamo Tipo Large moon Ok Così sarà sempre notte Perfetto E per il resto Invece Dungeon No dungeon Lo faremo Sì Facciamo structure dungeon Perfetto E per quanto riguarda Invece il terreno Facciamo Solid terrain Ok Così Abbiamo Non abbiamo problemi Va bene Time slow Invece Non ci importa Andiamo a craftarcelo Quindi ragazzi Dobbiamo andare a craftarcelo Qui dentro Nelle inscriber Qui ci mettiamo Una di queste qui dentro Uno due tre Quattro e cinque Qui dentro Facciamo store Perfetto ragazzi Costa Ma poco in realtà Rispetto a prima Per costruirla Quindi bello Mi piace Che cosa E andiamo inserire Questo qui dentro ragazzi E andiamo a costruirlo Ok Ci mette giusto Un pochetto A crearlo Perché quello Ovviamente È Ragazzi Costa del tempo Ovviamente Però Ci siamo Perché questo qui Potrebbe essere Piuttosto interessante Ovviamente Poi dobbiamo Inserirlo qui Nel transmitter Quando riusciremo a farlo Con il 9 Proprio Al modo Crearlo Bene L'abbiamo fatto Ora mi tocca Quindi andare a fare Velocemente qui Il nostro device I D7 Dovrebbe essere Giusto Credo tanto di sì Giustamente Oh no Come il receiver Too far For twilight Quindi non posso andarci E la 7 questa E la 7 Però è troppo lontana Il receiver Ragazzi Az E ok Per ora siamo finiti In questa zona qui Che ha tipo Le rocce Però Ora Non dovrebbe essere tutto così Perché Cioè io ho detto Guarda Devi farlo un pochetto diverso No non dimmi che mi ha fatto tanto questa stone Oh mio dio Vabbè ok che ho recuperato un po' di oggetti Però a me servirebbe altro Merda Mi sa che l'ho fatta tutta così Vabbè oddio Può essere buona per un paio di cosette Tipo per la cobblestone Però No Non voglio che sia così Merda Forse abbiamo un piccolo problema ragazzi Logistico qua Perché non era quello che pensavo io Ok Diciamo che questo potrebbe essere utile Ma non è quello che volevo io Quindi dobbiamo crearne un altro ragazzi Ma è decisione Questa volta la facciamo tanto così ragazzi Senza nient'altro Dovrebbe andar bene Credo Giustamente Non so se le altre cose lo va a modificare lui Però quasi quasi Forse mi conviene anche mettere Giustamente qualcosa E Facciamo Terrain Plateau Lo stesso Dai si direi che Funziona E dovrebbe andar bene Per questo campo Quindi facciamo così Store Perfetto Eccolo qua Quindi possiamo un attimo crearlo E speriamo che questo funzioni leggermente meglio Rispetto al precedente Mi tocca un attimo però Fare una cosa Ovvero separare questo coso qua Perché voglio che sia interrotto Peccato che non me lo faccia interrompere Sei una merda Perché non me lo fai interrompere E come diamine Interrompo Interrupt Ok Ah si chiama 5 questo Giustamente Ok Coso Lo chiamiamo cose Va bene Siamo sicuri che cose Perfetto E quindi dobbiamo un attimo ricrearlo Adesso di qua Questo qui è il 7 Che non ci serve più A noi serve questo Adesso Lo craft ovviamente In maniera molto Molto più veloce Meno male E quindi adesso proviamo ad andare lì Ovviamente lo teniamo qui dentro Che ci serve E quindi diciamo che A 5 a cose Li diamoli di 8 Giusto Che è quello nuovo Perfetto Dial Eccoci qua Ragazzi Andiamo verso teleportation Vediamo dove ci porta Questo nuovo mondo Quest'altro mondo in più Siamo finiti in un posto Con quella roba Giusto Vabbè In teoria dovrebbe essere Giusto Però non lo è Cioè io gli ho chiesto Volcanic Desert Ma non è un Volcanic Desert Questo Oddio non vorrei che non fosse Volcanic Desert Che dico io Sapete A parte che non c'erano manco i mob Non ci sono Dove sono i mob Vabbè Non ho idea In ogni caso È comunque una dimensione Che a me non serve molto In realtà Perché devo trovare In realtà Uh Aspetta 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 Dove trovare in realtà Tipo dicevo Il boss Però 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 Qualcosa la sto trovando Cos'è Il fossil ore Ah Dell'Erebus Figuratevi Mi sono anche dimenticato Tipo di prendere La palla Per tornare Quindi ho dovuto utilizzare Slice spawn Che è un comando Che è un comando Che è venuto di tornare Allo spawn Ma va bene Alla fin fine Vediamo un attimo Se riusciamo comunque A recuperare questa esperienza Qui Comunque questa è L'unica dimensione In cui vado E non c'è lag Non c'è problema Di nulla Quindi Mi piace come dimensione Una dimensione bella Una dimensione Che non ha problemi Sinceramente Va bene Direi di concludere Però questa puntata Andando a vedere Giustamente cosa c'è In quell'ultimo pezzo Lì ragazzi E poi vi direi Anche che potrebbe essere Anche tutto Per il momento Vi ringrazio E state con me Anche oggi Ovviamente Vi ricordo che Dovrebbe essere L'inizio In teoria La persona che ha vinto Che è una domanda Tra bocchetto Lo sapevo che Avesse sbagliato in molti Però qualcuno Ce l'ha cercato Quindi bravi Ok abbiamo un po' di dimlet Qua vediamo un po' qui dentro Cosa ci possiamo trovare Abbiamo Skin Green Green E Forest Hill Vabbè Più o meno interessante Come cosa Ma Potevo trovare di meglio Va benissimo Noi comunque Ci vediamo presto A un'unissima puntata Ciao ragazzi Ciao ragazzi